Questa è la comune mascherina chirurgica, lo dico ai tanti cittadini che chiedono informazioni, questa sarà la mascherina che conosceremo sempre di più, a due lati bisogna mettere il naso da parte che ha la formina e quindi ha il ferro, quello che è, la mascherina va indossata così, è quasi un tutorial, lo dico perché così non serve, c'è gente che gira per strada così, vuol dire cazzatore di virus e non serve neanche così, chiaro, così non serve niente, così meno ancora, serve solo così, deve essere coperta, naso e bocca, perdonatemi non è che vogliamo fare la figura di sapientini, però è pur vero che è come girare con il casco in moto con il sottogola sbacciato, se cadi ti spacchi la testa, la mascherina va indossata così e la mascherina non è un'incombenza di quel pazzo di zaia che ha fatto l'ordinanza o di quei quattro pazzi che comunque se la mettono, la mascherina salva la vita, è inutile piangere poi perché ti tocca essere ricoverato, sottoporti a cure o magari vedi qualche familiare che sta male, la mascherina salva la vita.